ciao a tutti eccomi qui con un altro video in questo video io ti farò vedere come è facile creare un braccio per il tuo manichino il manichino che io ho comprato è disposto per aggiungere questo accessorio quindi tu volendolo puoi trovare online ed acquistarlo però c'è anche chi non ha voglia di comprarlo e vuole crearselo da solo io qua ti farò vedere come è possibile crearlo anche con cose che noi abbiamo già in casa quindi a costo zero e quindi in pochi minuti c'è una cosa semplicissima e velocissima da fare vediamo subito come procedere ecco cosa utilizzerò utilizzerò una maglia una vecchia maglia come vedi questa maglia è a coste in modo che possa aderire bene al mio manichino era possibile anche acquistare della maglina e creare una manica senza senza vestibilità e quindi creare poi una spalla per potergliela appoggiare ho pensato che poteva essere più semplice avere un qualcosa di veloce senza dover creare cartamodelli e quindi perdere tempo nel creare il cartamodello in carta e poi portarlo sul tessuto e cucire il tessuto questo praticamente è già fatto devo solo riempirlo con la spugna e quindi con un'imbottitura o di spugna io l'ho parlato di spugna ma potrebbe andare bene o va potrebbe andare bene qualsiasi cosa che io già ho in casa e avrebbe un costo zero la maglietta è una maglietta vecchia e io non utilizzo più perché si è rovinata e quindi vado a riempire e a farti vedere potrei riempire una manica solo e quindi creare un braccio solo e togliere l'altro braccio quindi toglierlo proprio tagliandolo via oppure potrei riempire ambedue le braccia e avrei la comodità quando metto su o creo una giacca per poterla potergliela mettere indosso ora ti faccio vedere con l'imbottitura e il risultato quindi la riempiamo insieme e vediamo il risultato per imbottire la mia il mio braccio prendo come ti ho già spiegato della ovatta o comunque dell'imbottitura che ho trovato in qualsiasi posto o un vecchio cuscino o un vecchio piumino quindi senza buttare uno conserva alcune cose che possono essere utili e al momento opportuno le usa io generalmente metto in uno scatolone e al momento opportuno vado a prendere io mi servo di un vecchio paio di calze in questo caso le ho prese nere in modo che così siano uguali alla maglia che ho vado a riempirle per creare il mio braccio e cercherò di riempirle molto bene quindi come ti ho detto certi di riempire bene e di dare una forma abbastanza simile a quella di un braccio ho preso la calza perché rimane più compatta se io riempivo il braccio della maglia poteva diventare anche molto grosso una volta che l'abbiamo riempito secondo la nostra idea diciamo di braccio riempio un braccio solo però volendo uno potrebbe fare anche due le braccia e mettere le due braccia poi dovrò sagomarlo un pochino perché poi dovrà essere attaccato qui cercherò di farlo in modo che così si possa attaccare anche bene alla mia maglia diamogli l'impargimento di un braccio e facciamo in modo che rimanga leggermente inclinato così ora taglio questo braccio quindi prendo la forbice e taglio e vado ad inserirlo nella misuralo io ho dato un'occhiata prima di misuralo prima di tagliarlo magari in modo da avere bene o male un braccio intorno ai 60 centimetri questo è sui 60 centimetri e vado ad infilarlo nella manica del mio terminato il mio braccio dovrò attaccarlo ho preso il mio ago come vedi un ago abbastanza lungo per poterlo infilare per poterlo infilare agevolmente e attaccare il mio braccio quindi vado ad infilarlo nella manica del mio manichino cerco di dargli la forma più giusta che non sia troppo spesso e comincio ad attaccarlo prima lo attacco con gli spigli prima lo attacco con gli spigli non sia troppo spesso faccio prima le mie prove e se vedo che il braccio qui rimane troppo grosso poi tolgo e basterà che io tolga un pochino un pochino imbottitura oppure che la piattisca un po di più perché non deve essere molto spessa in questa parte se no fa finire che ci fa delle spalle da pugile che 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 ed ecco il mio braccio terminato quando vorrò togliere la maglietta potrò farlo se vuoi riempire anche l'altro braccio se vuoi riempire l'altro braccio potrei farlo io ho preferito infilarlo dentro questo sarebbe il braccio vuoto non ho fatto altro che girarlo all'interno ed ecco faccio se qualche cliente verrà mentre sto provando qualche abito non farà brutta figura perché comunque tutto nero sembra fatto apposta ecco ecco il mio braccio ecco 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 ecco